Mi chiamo Alex e da grande voglio fare l'astronauta. Sono le nove, tesoro. Ciao. Un bacio della buonanotte. Sì. Sì. Va bene, è ora di fare i compiti. Tu lo sai fare? Sai dare il buon esempio? Certo, sarò il fratello maggiore più bravo del mondo. Così mi piaci. Alex, va a letto. Dai, posso vedere come finisce questo? No, è tardi e c'è il telegiornale. Allora posso avere una tv in camera mia? Ti stiamo dando molta fiducia. Puoi guardarla mezz'ora al giorno. Quando diciamo di spegnere la tv, si spegne la tv. Va bene, papà, mi basta avere la tv in camera. Mio figlio da grande vuole fare il soldato. E personalmente non ci vedo niente di male. Alex è un bravo ragazzo. Forse lui è a casa, ma non lui è a scuola. Alex! Che c'è? La maestra non ti sopporta più, lo sai che significa? Sei esposto! Io voglio dirle una cosa che penso sia importante per Alex. Ha un amico immaginario. I bambini devono essere corretti. Nessun nemico riuscirà mai a raggiungermi. Vede una gran marmaglia intorno a me. Dipingi la città di Rosso, soldato. Signor, sì, signore! Tu sei un killer? Sei un killer! Nessun nemico riuscirà mai a raggiungi. Noi! Noi! Nessun nemico riuscirà mai a raggiungi. Nessun nemico riuscirà mai a raggiungi. Nessun nemico riuscirà mai a raggiungi.